10 fine settimana da gennaio ad aprile per la visita pastorale di Monsignor Napoleoni nella diocesi di Cremona che nel 2022 riprenda di incontrare sacerdoti e comunità del territorio. Il programma di volta in volta sarà delineato nel rispetto delle misure anticontagio vigenti e potrà subire variazioni in base all'andamento della situazione sanitaria. Il Vescovo intende far sentire la propria vicinanza ai fedeli in questo contesto di difficoltà. L'intenzione del Vescovo era quella comunque di poter intercettare la vita reale delle comunità anche in un periodo di affaticamento e di mortificazione rispetto alle consuete attività anche pastorali che ogni parrocchia mette in atto. Ciascuna visita si svolgerà dal venerdì alla domenica alternando momenti di dialogo e di preghiera con particolare attenzione ai giovani e a quanti sono impegnati nelle attività oratoriane. Monsignor Napoleoni intende intercettare soprattutto quei gruppi di parrocchie che hanno già avviato un cammino comune come unità pastorali. Se verifica che questo cammino ha già portato alcuni frutti ed è giunto a maturazione, allora la visita pastorale è anche l'occasione per annunciare ufficialmente la costituzione di una unità o collaborazione pastorale. E sarà questo per esempio il caso della prima visita pastorale nell'unità pastorale chiamata Don Primo Mazzolari che fa capo un po' alla parrocchia di Sant'Ambrogio. Il vescovo sarà nell'unità pastorale Mazzolari dal 14 al 16 gennaio. La messa conclusiva domenica alle ore 11 sarà trasmessa in diretta su Cremona 1. Il programma dettagliato della visita è consultabile sul portale Diocesano.